Ce l'ho, ce l'ho, manca! E' questa la frase di rito di grandi e piccini appassionati di figurine. L'album dei calciatori panini è un punto di riferimento per tante generazioni. Conquista, diverte ed è oggetto voluto da donne e uomini, cultori dello sport più amato d'Italia e non solo. La curiosità di aprire la bustina e scoprire quali saranno i campioni da attaccare è sempre la stessa da anni. E' passato mezzo secolo infatti dal primo numero edito dai fratelli modenesi e nonostante la grande diffusione di nuovi e tecnologici mezzi di intrattenimento la passione è sempre la stessa. E in tempo di crisi si risparmia su tutto tranne sui piccoli piaceri del collezionismo. Da ieri infatti la figurina di Rivera è la più pagata del mercato virtuale di Ebay. 126 euro al termine di un'asta combattuta da tre patiti collezionisti. Il calciatore ha superato per un solo euro il Faustino Goffi del 1968 e l'amore per le figurine fa il giro d'Italia con il Panini Tour 2012 che dal 14 gennaio al 15 aprile anima piazze e centri commerciali con giochi e soprattutto con il classico scambio dei doppioni tra gli appassionati.